Ora stiamo facendo la finale donna, poi c'è la finale di un uomo, però sono già tutti i finali, un po' Sì, imbroccava le partenze benissimo Dai, ciao No, 150, mi sembra E' il supergipo o' il 250? Sì, non è che Puoi scogliere? Puoi scogliere? Puoi scogliere? Puoi scogliere? No, è l'ottima E' il secondo Uh, saranno scogliere Dunque